Condividi la vita, condividela spesso. È lo slogan che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha coniato per celebrare questa giornata. In realtà l'Avis, la nostra associazione, è sempre presente nella società, nel territorio e sempre risponde continuamente ai bisogni di raccolta di sangue e plasma perché comunque le esigenze ci sono. Comunque in una giornata come questa è importante sottolineare che da un lato un episodio simbolico si è già svolto questa mattina quando la bandiera Avis è stata posizionata insieme alle bandiere dell'Italia e del Comune di Fano sopra nel pennone del Palazzo Comunale. Quindi significa che l'Avis è nel territorio, è nella realtà a dialogo con tutte le associazioni, con tutti gli organismi, con l'amministrazione, con tutti i cittadini e questa sera abbiamo fatto questo piccolo flash mob che ci ha consentito di consegnare tesserini ad alcuni donatrici o donatori che si sono iscritti all'Avis da poco e che hanno effettuato la prima donazione. E poi questo flash mob, nonostante il maltempo, invita le persone a rendersi conto del tema della solidarietà, della necessità che il sangue è una esigenza continua e costante e perché grazie al sangue e al plasma si salvano tante vite.